Con un video messaggio indirizzato ai turisti che hanno raggiunto le coste cilentane per il periodo di vacanze estive, la Forania Castellabate Cilento, coordinata da Don Roberto Guida, ha deciso di affidare a Don Gianluca Cariello il compito di augurare un gradevole soggiorno da vivere nel rispetto della natura, delle bellezze del territorio e nella fraternità accogliente delle comunità parrocchiali presenti nei diversi comuni della Costa Blu del Cilento e dei paesi dell'interno. Benvenuti a tutti, io sono Don Gianluca e insieme a tutti i sacerdoti della Forania Cilento Castellabate, Don Roberto, Don Pasquale, Don Holgerd, Don Angelo, Don Walter e decine altri di sacerdoti siamo qui in questo tempo per accogliervi e perché in questa che spesso amo definire un paradiso sulla terra ciascuno di voi possa trovare il suo spazio di riposo in cui contemplare la bellezza di Dio nel creato e allora che le nostre tradizioni, il nostro popolo segnato dall'accoglienza possa essere per voi uno spazio che si apre dove riscoprire il ristoro e il riposo che viene da Dio. Allora aiutateci, aiutateci a custodire questo luogo, riempiteci con i doni della vostra storia, riempiteci con la bellezza di quello che vivete e con la fatica che vi ha attraversato in questo anno e mezzo e facciamo in modo tale che questa terra in questa estate sia come ci dice Papa Francesco l'occasione di sperimentare che la vera vita è imparare a essere fratelli tutti. Buon riposo, buon vacanza da Don Gianluca e da tutti i preti della Forania di Cilento Castellabate.